Musica E allora possiamo cominciare questo dodicesimo panel, intanto ben arrivati, ben arrivate a tutti e a tutte o bentornate. Grazie, questo appunto è il numero 12 fra gli appuntamenti di un festival che sta occupando diverse giornate per Verona e per i veronesi, le veronesi. Un festival del giornalismo che ha visto come fulcro della sua attività, impatto zero, zero impatto. Ma andiamo con, concedetemi appunto, un ringraziamento ed una ripresa di quelli che sono gli sponsor e gli supporter di queste giornate. Abbiamo appunto, anzi è necessario dire che questo è un festival promosso ed organizzato da Eraldo, che è una pagina giornalistica che come conoscete, come spero appunto avete anche modo di seguire, si sta impegnando su diversi fronti, promuovendo quello che è un giornalismo sul territorio, che dia voce a quelle che sono appunto le iniziative e le realtà più popolari, oltre quello che è il diritto di cronaca. Un festival del giornalismo questo, che dopo la prima e per molti aspetti, anche se vogliamo, pionistica edizione del 2021, è tornata poi ad essere riproposta nel 2022 e a concretizzarsi nel 2023, dando un evento a Verona che è unico e che è il primo pioneristico appunto nel suo genere. Rispetto alle due edizioni passate siamo cresciuti nei numeri, ci siamo concentrati anche se vogliamo nei temi, portando relatori e moderatori dal respiro nazionale ed internazionale. Quindi ringraziamo appunto i nostri partner, prima fra tutti le istituzioni e il Comune di Verona, l'Ordine dei giornalisti dal Veneto, il Dipartimento di Cultura e di Civiltà dell'Università di Verona e la Fondazione Antonio Megalizzi. Andiamo poi al nostro main sponsor, Getech Italia H.S.P.A. e altri sostenitori come il Banco BPM, D.Lab, Cantina Monteforte e iPlus. Ringraziamo poi per il supporto tecnico il Teatro Stabile di Verona, Filmica Produzioni Video, D.A.B. Atelier, Libreria Pagina 12, Pizzeria Berberè, Best Western Hotel Armando, Hotel Veronesi La Torre e Bosco dei Cerri. Ricordiamo inoltre che la pagina appunto, l'associazione anche culturale Eraldo, il Festival del giornalismo di Verona, siamo gemellati appunto con l'associazione culturale Le Ali della Notizia, Festival del giornalismo Ronchi dei Regionari e il gruppo stampa autonomo di Siena, Festival del giornalismo di Siena appunto. Torniamo quindi al tema principale, Impatto Zero Zero Impatto e le diverse eccezioni, le diverse declinazioni appunto di questo argomento rispetto al sistema delle comunicazioni e del loro impatto, di quello che arrivano ad ottenere rispetto ai lettori, agli ascoltatori e a chi riceve appunto la notizia. In questo dodicesimo appuntamento il tema invece è il rapporto complesso, interessante, che richiama appunto un'attenzione particolare del rapporto fra donne e politica e abbiamo appunto l'onore di avere con noi come moderatore il giornalista Luca Perrino. Diamo poi il benvenuto a Fabiana Martini, giornalista, portavoce di articolo 21 Friuli Venezia Giulia, a Nicoletta Apolito, media analista ed esperta di comunicazione digitale al Centro Studi Interculturali dell'Università di Verona, a Veronica, scusami, a Tizogbe, vicepresidente del Consiglio Comunale di Verona e a Francesca Toffoli, ex assessorato dell'Aggiunta Sbuarina. Lascio voi la parola, vi ringrazio per le attenzioni che vorrete aiutarci a dare a quelli che sono dei temi necessari di riflessione per quello che è un rapporto, una relazione necessaria e il più delle volte però con qualche declinazione complessa come appunto la presenza e l'attivismo delle donne in politica. Grazie a voi e grazie a voi. Grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Eraldo, il Festival del giornalismo di Verona per averci ospitati qui per il secondo anno consecutivo. Come avete detto, c'è un gemellaggio che grazie all'intercessione di Beatrice è nato due anni or sono, questo è il vostro terzo anno, per noi fra poche settimane sarà la nona edizione e quindi è nata questa collaborazione, questa rete che come già più volte ho detto e come amo sempre dire è la rete importante, la rete fa ampliare le conoscenze la rete permette di incontrarci, di scambiarci delle opinioni ma anche scambiarci dei tra virgolette favori che non sono dei favori di stampo sicuramente mafioso ma sono dei favori che vanno incontro alla voglia di far cultura, la voglia di fare informazione anche se di questi tempi anche parlare di informazioni è veramente diventato complicato. Ma però, qua, questo pomeriggio parliamo del complesso rapporto tra le donne e la politica. Mi trovo nel bel mezzo di... sono in minoranza schiacciantissima una volta tanto fa bene vi faccio subito una domanda prima di poi andare ad analizzare altri aspetti insomma un poco più di 70 anni fa per la prima volta le donne andarono al voto che cosa è cambiato? È cambiato davvero qualcosa da 70 anni in qua se ancora il numero delle amministratrici locali credo sia un quinto rispetto ai colleghi uomini e si arriva ad un terzo credo ecco nelle istituzioni nazionali ecco credo chiedo se davvero a distanza di più di 70 anni qualcosa è veramente cambiato inizio da Veronica Sì grazie ancora dell'invito e buonasera a tutte e a tutti allora come dicevi bene sì sono 70 anni dal 1946 quando le donne avevano la possibilità di votare per la prima volta in Italia sicuramente rispetto a quelle che sono le altre democrazie a noi vicine l'Italia si posiziona in una situazione ancora molto complessa e lontana dai numeri delle democrazie a noi vicine per esempio mi riferisco alla Finlandia piuttosto che alla Svezia dove la rappresentazione e la rappresentanza femminile è molto più elevata e molto più alta ci sono state tantissime mobilitazioni che hanno portato alla conquista di diritti che tuttora dobbiamo preservare c'è stato comunque un miglioramento mi sembra appunto che dal 3% che era la rappresentazione delle donne nell'assemblea costituente si è poi passate alla prima legislatura ad avere ben il 5% fino ad ora dove abbiamo un 34% è chiaro che il cammino è molto complesso e molto lungo ma penso che arrivare a momenti di discussione di consapevolezza che si sta raggiungendo sia la strada giusta e la strada che sta imboccando l'Italia stessa nei confronti di questo tema è importante ricordarcelo anche noi come donne che facciamo parte nel mio caso nelle istituzioni quanto sia importante non solo inserire nell'agenda politica quelle che sono questioni di genere poi cercare anche di estenderle a quello che è il parterre maschile quelle che sono appunto le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati Fabiana secondo te le cose sono davvero cambiate in questi 70 anni cioè il dare il voto alle donne in Italia è stato sicuramente una grande conquista ma è stato lo spartiacque ovvero da lì è iniziato un cammino tutto in 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 rapida ascesa o no buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia e ringrazio anch'io di questa opportunità di questa occasione in cui appunto affrontare un tema complesso ma fondamentale anche per la qualità della nostra democrazia ma dunque sicuramente è stato un momento fondamentale il voto alle donne l'approvazione insomma della costituzione dove appunto l'articolo 3 si dice in maniera molto chiara si pone il tema dell'uguaglianza formale e ci si pone anche il tema dell'uguaglianza sostanziale cioè si è consapevoli del fatto che diciamo che siamo tutti uguali ma dobbiamo rimuovere nel compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono questa effettiva uguaglianza e se andiamo a vedere anche i dati per esempio nel 1946 le sindache erano 10 in tutta Italia ora sono circa 1200 quindi sono comunque ancora poche perché il 15% se ci pensiamo è comunque un numero imbarazzante mi viene da dire però indubbiamente come dire un cammino è stato fatto è un cammino lentissimo lentissimo se ci pensiamo solo poche settimane fa siamo arrivati anche a far sì che appunto una donna occupasse il ruolo nella magistratura poi pochi mesi fa una donna per la prima volta è diventata presidente del consiglio non ancora tutti gli spazi sono stati tutte le cariche istituzionali perché manca ancora la prima presidente della repubblica però a poco a poco insomma ci stiamo ci stiamo arrivando quello che è fondamentale è rendersi conto dal mio punto di vista che questo come dire non è un problema cioè questo non è un problema delle donne ma è un problema di tutti è un problema della democrazia e quindi dobbiamo come dire sentirci stimolati non possiamo come dire sentirci tranquilli per il fatto che adesso finalmente abbiamo una donna presidente del consiglio cosa importantissima ma dobbiamo sentirci continuamente sollecitati a mettere in campo azioni per come dire aggredire le cause che impediscono perché in realtà ecco l'importante è essere consapevoli del fatto che non è che le donne non vogliono impegnarsi in politica non vogliono candidarsi non vogliono vogliono fare altro il problema è che ci sono una serie di ostacoli che impediscono alle donne di farlo di farlo in maniera insomma vorrei dire serena o comunque fattibile come del resto ci sono delle tante cause che impediscono anche alle donne per esempio di lavorare nel nostro paese se pensiamo che siamo ancora una su due che lavorano quindi ecco credo che sia fondamentale che la politica si ponga il tema perché non è un argomento di nicchia e comprenda quali sono le cause ecco per esempio in questo viaggio che io ho fatto tra le amministratrici locali sono emersi in maniera molto evidente quelle che sono delle cause comuni per cui le donne faticano ad impegnarsi a volte anche ad essere elette è importante che ci siano delle risposte istituzionali non è che possiamo dare risposte individuali o lasciare diciamo all'eroismo delle singole la decisione di immolarsi o meno grazie Fabiana e Francesca che sei tu giusto ecco devo ancora inquadrare i volti e dare i volti a un nome per te in questi 70 anni c'è stata una evoluzione importante nel ruolo delle donne in politica o si sarebbe potuto arrivare a qualcosa di più ovvero Fabiana parlava manca il primo presidente della Repubblica qualche anno fa si parlò della possibilità di un presidente donna ecco tu come la vedi? ma io faccio un'analisi numerica un po' più ampia sì è vero sono 70 anni ma rispetto a una gestione della Repubblica molto più ampia mezzo secolo più di mezzo secolo è poco se la guardiamo proprio in ordine temporale e se consideriamo anche che in questo poco più di mezzo secolo le donne non solo si sono affacciate alla politica al voto alla politica poi ma si sono affacciate alle professioni si sono affacciate alla patente banalmente si sono affacciate ad andare a parlare a gestire la loro vita in prima persona mentre prima andava o il padre o il marito ad esporre determinate problematiche anche molto personali delle donne quindi io dico in questi 70 anni si sono fatti veramente passi passi da gigante dopodiché Fabiana mi ha conosciuto io sono molto pratica molto pragmatica ci sono degli problemi obiettivi oggettivi c'è poco da fare io sono una libera professionista tra l'altro quindi ho abbinato libera professione lavori sul tuo politica lavori sul tuo pure lì perché non hai una squadra dietro che ti porta verso anzi anzi e di conseguenza devi un po' fare una sorta di eversione dei tuoi equilibri quotidiani io ricordo perfettamente appena ero stata nominata assessore all'amministrazione precedente un amico di mio papà gli aveva detto sarai contento Agostino di tua figlia e lui fa ma veramente no perché non la vedo più cioè questo ti dava proprio l'idea del fatto che non riuscivi a fare tutto i tempi non riesci a farli conciliare quindi devi a un certo punto scegliere se fare bene tutta una cosa se fare bene tutta un'altra non ce la puoi fare fare la figlia la moglie la professionista involontariato l'impegno civico in comune non ce la fai non ce la fai proprio perché non hai nessuno che ti supporta dietro mentre non sei a casa mentre non vai a dare una mano ai tuoi quindi ti devi dare da fare e poi ad un certo punto come ho deciso nell'ultimo anno fai una frenata brusca e dici ok adesso mi riprendo un attimo la mia vita ricomincio ricomincio sul lavoro ricomincio con i miei ricomincio con la mia famiglia mi riprendo un po' i miei tempi perché non non sono ancora conciliabili e non sono ancora conciliati i tempi di una donna e della politica faccio una torno indietro un po' col passato io ero iscritta tantissimo tempo fa al tempo dell'università Forza Italia mi ricordo perfettamente una riunione dove c'era la senatrice allora a Bonfrisco e noi eravamo delle ragazzine sostanzialmente e lei ci disse nella sala dei mutilati quando vi sposerete cucinate non so se li ricordate più quattro salti in padella cioè nel senso ecco datevi un po' una mossa uscite di casa date sti surgelati a sti mariti per questo cosa vuol dire vuol dire che da allora sono passati trent'anni da allora ok non è cambiato niente cioè ho cucinato tanti surgelati anch'io negli ultimi cinque anni perché non c'era nessuno che cucinava al posto mio a casa pur avendo un marito molto conciliante nei tempi cioè devi poi scontrarti su queste banalità l'intervista l'abbiamo fatta al supermercato mica in un ufficio all'epoca con Fabiana quindi ti devi un po' arrangiare ecco sì Nicoletta a te la stessa domanda ovvero questi anni hanno cambiato il palcoscenico per la donna che vuole essere che vuole impegnarsi in politica e che vuole impegnarsi nella res pubblica come è stato detto benissimo buonasera a tutti mi dispiace portarvi brutte notizie a questo punto perché io sono reduce da una ricerca da un report che abbiamo pubblicato lo scorso marzo in cui si parlava appunto di disinformazione delle donne in politica e degli attacchi che queste donne subiscono online e purtroppo ultimamente diciamo che di attacchi ce ne sono stati abbastanza e di varia natura io questo report l'ho scritto in diciamo in concomitanza insieme a Lucina Di Meco che è un'esperta dei diritti delle donne e che ha un'associazione che si chiama Shippersisted in America in cui si occupa appunto di combattere la disinformazione di genere online per quanto riguarda le donne in politica ma nel contesto mondiale e io mi sono occupata per l'appunto del caso italiano e ci siamo rese conto che molti attacchi un po' conciliavano con gli attacchi che subivano altre donne all'estero per quanto riguardava appunto attacchi misogini sessisti narrazioni vere e proprie a danno di queste donne e quindi insomma ci siamo anche rese conto che in Italia c'è un bel terreno fertile da questo punto di vista nel senso che quanto più una donna di differente fazione cioè non conta essere di destra o di sinistra la cosa che conta è il fatto che quanto più questa donna si espone su determinate tematiche che vanno a attaccare non so i diritti civili i diritti delle donne soprattutto i diritti dell'immigrato quando si parla di migrazione di accoglienza ai profughi queste donne vengono attaccate molto 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 di più e diventano quindi una sorta di mezzo per arrivare poi attaccare insomma quelle che sono dei fondamenti importanti nel nostro tessuto sociale e quindi diciamo che mi dispiace portare questa brutta notizia ma nel senso forse una grandissima differenza non la stiamo notando anche perché poi uno degli obiettivi di questi attacchi di queste donne che appunto subiscono gli attacchi è quello di indebolirle anche come persona al punto tale da non farle più nemmeno candidare in politica perché una si spaventa si spaventa anche perché ricevono molto spesso delle minacce da un punto di vista sia personale ma che poi ricade sulla famiglia sui figli e di conseguenza anche chi sta per entrare in politica magari ci pensa due volte a farlo perché comunque diventa complicato e forse questo spiega anche il numero minore di donne che in effetti lavorano nel contesto politico italiano questa è una mia ipotesi però immagino che possa influire tanto Francesca tornerei da te faccio un giro diverso perché secondo te è stata la destra la prima forza politica a portarci in a darci un premier un capo del governo donna ma banalmente perché c'era una brava donna una donna brava una brava donna una che è molto caparbia che è riuscita a creare attorno a sé una squadra di uomini e non di donne e anche questo è un po' emblematico e che è riuscita proprio a forse anche in un periodo di debolezza di premier maschili lei ha tenuta forse la barra dritta è stata molto coerente con se stessa con le sue idee ideologie politiche mentre dall'altra parte gli uomini stavano un po' cincischiando negli obiettivi nei raggruppamenti si è infilata al momento giusto nel posto giusto e la donna giusta perché effettivamente c'erano delle altrettanto donne valide anche in altri ambiti politici ma non hanno colto proprio la crepa perfetta per per entrare non è un segreto io ero sono iscritta alla Lega credo non sia stato semplice per lei superare quella scritta sul simbolo della Lega Salvini Premier cioè lui ce l'aveva già dentro e lei si è infilata proprio come un un missile lì dentro proprio perché ha trovato il momento di debolezza in tutte le condizioni perfetto la tempesta perfetta per gli altri e la sua nave che ha prodato proprio nel porto giusto ma da leghista ti dispiace ti senti dispiaciuta che non sia stato assolutissimamente no io lo dico sempre e l'ho detto anche a Fabiana il mio partito non è sicuramente un partito che favorisce le donne io non sono stata favorita dal mio partito non lo sono attualmente è evidente per chi conosce un ambito politico veronese non mi vergogno a dirlo ci sono degli ideali delle ideologie politiche che all'interno della Lega mi piacciono mi piacciono ancora molto ce ne sono altre che non è riuscita a sviluppare a cogliere e che le donne all'interno della Lega non sono riuscite a cambiare proprio perché siamo veramente poche se qualche veronese riesce a a a ad elencare su cinque mani le donne del partito della Lega Verona che si ricorda così cioè secondo me arriva a tre forse arriva a tre forse Veronica che cosa spinge una giovane donna a voler far l'amministratore locale me lo chiedo ogni giorno in realtà però di fatto mi sentivo in un momento in cui non vedevo una rappresentazione ci ho pensato tanti mesi prima di accettare la candidatura e quello mi aggancio a ciò che era stato detto una delle mie paure era principalmente quella che sarebbe stata la narrazione e quelli che sarebbero stati gli attacchi e quindi vedevo profondamente la mia famiglia spaventata da questa idea e quindi io stessa lo ero dopo alcuni mesi ho deciso di farlo che provare non mi costava nulla provare anche a portare temi nuovi potevo farlo che alla fine da attivista è quello che faccio quotidianamente per cui l'ho fatto ci siamo in qualche modo riusciti è chiaro che l'elezione da una parte è sicuramente un grande traguardo ma è l'inizio è solo l'inizio per cui già il fatto che comunque sia un luogo molto più giovane dal punto di vista anagrafico perché con me sono entrati altri giovani è comunque una bella mole di idee poi come dicevo prima bisogna realizzarla e a distanza di un anno c'è un po' di frustrazione perché delle volte si parte con tantissime idee e la voglia di realizzare tantissime cose in un contesto e comunque anche in una tempistica che ti sembra molto più veloce e invece così non è però si fa quel che si può si dice per te potrebbe questo è un trampolino di lancio o tu pensi che ti fermerai a fare l'amministratore che pure è un compito arduo e difficile credo più arduo e difficile che non fare il deputato o il senatore insomma non credo allora fino a un anno fa facevo tutt'altro e non pensavo neppure di entrare in un consiglio comunale quindi per me è un po' precoce capire quale sarà il futuro e dal punto di vista anche di realizzativo che cosa potrò insomma ricoprire come ruolo è chiaro che a me piace stare a contatto con le persone mi piace questo mondo seppur è difficile e ci sono tantissimi mal di pancia però allo stesso tempo capisco che non posso fare a meno di questa politica che secondo me è anche un po' una malattia a un certo punto però adesso non ti saprei dire come mi rivedo tra qualche anno grazie e Nicoletta tu hai parlato di un report che avete appena pubblicato e che non ci dà un quadro del tutto roseo ma in fondo al tunnel c'è uno spiraglio di luce ovvero torno sulla domanda che ho fatto quando abbiamo iniziato questo pomeriggio il cambiamento è possibile? è una bella domanda bellissima domanda in realtà io mi sono talmente tanto concentrata sui dati che poi tutto quello che ho potuto diciamo pensare di un cambiamento possibile mi ha un po' scoraggiato nel senso che per avere un cambiamento bisognerebbe cambiare un po' la mentalità di alcune situazioni e cambiare la mentalità di alcune situazioni di alcuni modi anche di pensare che sono sono difficili da scardinare rischia insomma di farci perdere tempo perché molto spesso alle donne che vengono appunto attaccate in politica vengono attaccate poi sulla persona si sfocia su questo su questo filone poi narrativo che va a denigrare la persona e uno dei commenti più sessisti che poi diciamo vengono ripresi dai classici leoni da tastiera e quindi poi si radicalizza ancora di più nel tessuto sociale è il fatto che la donna sia troppo emotiva per poter avere un ruolo in politica importante forse diciamo anche non solo proprio in politica parliamo proprio nel contesto sociale in varie posizioni di rilievo la donna è considerata troppo emotiva per poter gestire delle situazioni di stress e quindi ci sono tanti commenti che vanno in questa direzione finché non scardiniamo un po' questi stereotipi sessisti secondo me diventa difficile poi in qualunque tipo di contesto riuscire a vedere una soluzione che sia rosea in futuro purtroppo siamo nel 2023 ancora a parlare di queste cose purtroppo è così io ci metto tutta la buona volontà e tutto l'ottimismo nel poter pensare che qualcosa si possa possa cambiare possa modificarsi in futuro però poi a conti fatti quando mi immergo in queste situazioni in questo mare insomma perché è stato veramente un qualcosa di assurdo ti rendi conto che di strada ce n'è ancora da fare Fabiana Martini Il governo delle donne viaggio tra le amministratrici locali italiane questo è il titolo del tuo libro che trovate qui sul banchetto alla mia destra tu hai svolto un viaggio abbiamo detto che hai intervistato Francesca Tufali al supermercato perché in quel momento lei facendo l'assessore ma anche facendo la moglie la mamma eccetera eccetera non aveva tempo e l'avvocata anche quindi dovevate ecco che situazione hai trovato in Italia? Una situazione faticosa questo credo che sia la descrizione più corretta infatti la parola fatica viene anche ripresa in prefazione da Daniela Broggi quando appunto racconta quello che così la lettura del testo le ha lasciato perché appunto come già accennava prima Francesca pur essendo nel 2023 per esempio il carico della cura come si suol dire il carico domestico e questo vale sia che si sia madre o che non lo si sia perché poi c'è comunque ci sono i genitori anziani c'è il marito il compagno eccetera è ancora quasi esclusivamente sulle spalle delle donne se noi andiamo a vedere c'è un'indagine ISTAT del 2018 quindi un'indagine ISTAT non qualcosa di soggettivo ma qualcosa di scientifico ci dice che le donne che come dire impiegano oltre 4 ore della loro giornata nel lavoro domestico nell'organizzazione e questo considerate che non tiene conto del cosiddetto carico mentale che comunque incide moltissimo ed è fondamentale che è proprio il pensiero di dover organizzare anche a volte il cosiddetto pensiero della cena mentre se andiamo a vedere quanto ne impiegano gli uomini siamo a 47 minuti quindi voi capite che lo squilibrio ci dà l'idea di come sia veramente come dire eroico da parte di chi decide di assumersi questo impegno farlo però quello che mi ha colpito e quindi per non parlare poi appunto quando ci sono dei figli oltre al fatto che tutto quello che diceva già Nicoletta e io l'ho riscontrato e mi ha colpito molto anche in amministratrici di comuni molto piccoli considerate che io ho intervistato un'amministratrice per regione cercando di oltre che di rappresentare insomma sia amministratrici di destra di sinistra del Movimento 5 Stelle delle liste civiche e anche di persone più giovani meno giovani di diverse professioni ma anche soprattutto in rappresentanza di comuni molto diversi il comune più piccolo è un comune di 393 abitanti in Val d'Aosta il comune più grande è il comune di Roma della capitale e poi ci sono in mezzo tutte le però voglio dire quello che mi ha colpito è che anche le amministratrici molto molto giovani di comuni molto piccoli hanno detto cioè hanno rivelato questa fatica nel prendere parola pubblica cioè ogni volta che l'hanno presa hanno qualcuno ha usato un termine molto pesante dice sono stata letteralmente asfaltata per cui ho deciso da quel momento che più di qualcuno mi ha detto ho pensato di smettere o di ritirarmi qualcun'altra mi ha detto ho deciso di assumere un basso profilo capite che per chi amministra assumere un basso profilo è un problema evidentemente quindi questa per cui la fatica più grande rimane sicuramente quella della conciliazione io credo che è qui che le istituzioni dovrebbero dare delle risposte che poi tra l'altro andrebbero a giovare tutte le donne anche quelle che magari non decidono di impegnarsi in politica ma semplicemente vorrebbero lavorare e molto spesso sono costrette a dimettersi perché non ce la fanno a tenere tutto insieme e quindi dopo l'arrivo del primo figlio del secondo eccetera e abbiamo visto che cosa ha fatto poi la pandemia in questo senso non ci hanno fatta a mantenere il posto di lavoro e abbiamo i numeri che abbiamo io credo che appunto bisogna pensare a soluzioni di conciliazione lo dico perché mi aveva molto colpito a suo tempo quando avevo intervistato Francesca ci sono quelle più classiche che tutti immaginiamo e che sono giuste corrette come appunto gli asili nido che ancora vi ricordate l'obiettivo di Lisbona prevedeva il 33% adesso l'Europa l'ha aumentato al 45% noi siamo ancora sotto quell'obiettivo lì ma significa anche per esempio organizzare mi ricordo quello che mi aveva detto appunto Francesca una città conciliata cioè Francesca faceva l'esempio a volte nel momento in cui tu hai dei trasporti pubblici che ti garantiscono che tuo figlio magari certo non un bambino piccolissimo possa andare a calcio con l'autobus e come dire attraversare zone illuminate quindi diciamo sicure o comunque più sicure già quello è un'azione di conciliazione e poi soprattutto c'è il tema che per me rimane fondamentale per me lo dico così in maniera molto senza fare troppi giri di parole è l'unica strada in questo momento che ci consentirebbe di fare un passo in avanti cioè di fare un po' un salto perché siamo un po' fermi nel senso che siamo sempre lì da tanto tempo come appunto rilevava prima anche Francesca ed è quella dei congedi parentali paritari cioè insomma noi siamo siamo arrivati dopo veramente decenni ad avere questi dieci giorni obbligatori se andiamo a vedere diciamo negli altri paesi europei abbiamo insomma tutt'altro tipo di possibilità ricordo che mi aveva colpito molto nel 2017 quando avevo intervistato il ministro del welfare islandese firmatario della prima legge al mondo sulla parità salariale il quale mi aveva detto che l'azione maggiore che avevano come dire messo in campo per realizzare la parità perché voi è chiaro che la legge la facciamo sappiamo farla tutti poi dopo un'altra cosa è riempire di contenuti questa legge costruire materialmente poi i diritti era quella di aver pensato a nove mesi di congedi retribuiti di cui tre obbligatori per la madre tre obbligatori per il padre tre a scelta e lui mi aveva detto guardi che anche qui pur essendo un paese molto così molto noto anche per l'emancipazione femminile storicamente data eccetera i tre a scelta quasi sempre li prende la madre ma il punto è che i tre obbligatori per il padre i padri li prendono anche perché chi rinuncerebbe nel senso che se non li prendono loro li perdono chi rinuncerebbe a tre mesi soprattutto con bambini molto piccoli con quello che costano i nidi e tutto il resto a tre mesi retribuiti e questo aiuta anche culturalmente a superare lo stigma di fatto di dire ah ma tu cioè della serie ma qual è il problema perché li prendi tu cioè tua moglie cosa ha perché di fatto quando un uomo in Italia va a chiedere un congedo di solito la domanda è questa quindi ecco oppure magari ti incontrano e ti dicono ma oggi fai il mammo cioè c'è un tema culturale fondamentale in questo infatti alla fine se andiamo a vedere quello che dove non facciamo grandi passi avanti sono gli stereotipi io racconto che faccio sempre vedere faccio percorso su scelte professionali e stereotipi di genere nelle classi delle superiori faccio sempre vedere una ricerca psicosociale statunitense del 1975 sugli stereotipi sugli aggettivi attribuibili ai maschi e alle femmine e un lavoro del 2018 di Rene Biem che è una studiosa di questi temi e guardate che siamo sempre lì sono passati quasi 50 anni ma alla fine gli stereotipi restano quelli e io racconto anche questo piccolo aneddoto che mi ha colpito molto di pochi mesi fa durante la presentazione appunto una presentazione di un libro c'erano varie amministratrici rappresentanti di varie coalizioni non vi dico di quale coalizione ma un'amministratrice peraltro relativamente giovane parlando della sua fatica di conciliazione ha detto sì il problema è che poi io ho due figli maschi e non mi possono neanche aiutare quindi cioè voi capite come gli stereotipi agiscono ovviamente sia negli uomini che nelle donne allo stesso modo questo è importante che ce lo diciamo e quindi e questo tra l'altro è dimostrato perché in quella indagine istat di cui parlavo prima si dimostra che anche se andiamo a vedere quanto collaborano in casa i ragazzi tra i 14 e i 18 anni di fatto collaborano più le ragazze evidentemente non spontaneamente ma c'è nell'organizzazione anche della distribuzione dei compiti domestici che molto spesso è in capo alla madre quindi voglio dire sentiamoci responsabili succede questo a suo tempo Francesca parlava di chioccizzazione che è in atto in Italia dove noi facciamo anche fatica a rendere i figli autonome questo incide poi moltissimo e lo vediamo poi negli anni a venire però il problema fondamentale è la conciliazione su quella che noi dobbiamo lavorare è una conciliazione paritaria perché alla fine si pensa sempre facciamo questa cosa per aiutare le donne per aiutare le madri invece in realtà insomma credo che questo vada c'è una parità rea cioè sostanziale non soltanto formale la otteniamo soltanto quando abbiamo veramente la stessa possibilità di accedere anche alle cariche e agli impegni quello che posso dire che mi ha anche colpito che anche nelle donne che avevano l'esperienza più faticosa e alcune hanno avuto un'esperienza veramente tanto faticosa penso ad esempio alla sindaca di Rosarno che è stata sotto scorta per sei anni penso ad esempio tra quelle che ho intervistato insomma penso alla consigliera comunale di Milano consigliera musulmana velata che è stata oggetto di una serie di attacchi incredibili che ecco alla fine però nessuna di loro mi ha detto non lo rifarei tutte mi hanno detto non mi pento di averlo fatto sono contenta di averlo fatto nonostante la fatica e anzi credo che dovrebbe essere quasi una sorta di una in particolare penso all'assessora ai sassi di Matera che mi disse credo che dovrebbe essere quasi una sorta di servizio civile che ognuna e ognuno poi anche dovrebbe fare e visto che sei stata vice sindaco di Trieste tu lo rifaresti? adesso sorrido perché ho davanti a me anzi approfitto per salutarlo il comandante io continuo a chiamarlo così Abate che è un cittadino veronese però è stato per molti anni comandante della polizia locale di Verona e abbiamo condiviso insieme questa esperienza nel senso che io avevo anche la delega della polizia locale quindi insomma lui era il mio dirigente il mio direttore d'area no sicuramente lo rifarei sicuramente lo rifarei poi se mi chiedi se mi manca probabilmente ti dico di no però no lo rifarei perché comunque è un'occasione faticosissima ma preziosissima per veramente per contribuire a costruire il bene comune per chi ci crede davvero e anche per veramente dare fare in modo che si possa davvero far sì che come dire i servizi i diritti siano accessibili a tutte e a tutti veramente e non soltanto sulla carta ecco si può davvero lavorare in quella direzione non è facile ci sono momenti particolarmente faticosi a proposito di quello che raccontava prima Nicoletta insomma io il comandante sicuramente lo ricorderà noi a suo tempo tra le varie cose avevamo promosso quello che diventò poi famoso insomma era il cosiddetto gioco del rispetto e fu veramente molto 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 duro faticoso insomma subire gli attacchi di chi ha detto ne ha dette veramente di tutti i colori di ogni sorta proprio attacchi personali che insomma davvero di fronte ai quali ti chiedi ma insomma chi me l'ha fatto fare soprattutto perché ecco quando riguardano le donne molto spesso mettono in campo anche i figli questo è abbastanza normale ci sono tanti esempi insomma nella ricerca di Nicoletta ce ne sono molti anche non italiani è chiaro che poi giustamente ci si spaventa ci si preoccupa per i figli ecco molte delle amministratrici che ho intervistato me l'hanno raccontato qualcuna anche mi ha detto a un certo punto come dire li ho chiusi in casa poi ho capito che non potevo fare così e soprattutto mi ha detto non volevo che i miei figli crescessero con l'idea che il mondo odia la loro madre e quindi insomma poi abbiamo però capite che insomma considerando che la politica afferisce la dimensione del tempo libero quindi come dire nessuno ce lo prescrive cioè non è come il lavoro che giustamente oltre a essere anche una possibilità per esprimere le proprie potenzialità talenti competenze eccetera ma insomma serve anche per portare come dire a casa il pane in realtà la politica è una scelta che uno fa è una scelta doppiamente faticosa per le donne perché le donne storicamente non sono state previste quindi hanno dovuto scegliere due volte e quindi ancora di più uno si chiede ma chi me lo fa fare se già come dire devo sacrificare il tempo libero la famiglia come dire la serenità eccetera per poi essere come dire ripagata in questo modo quindi questo è il tema Veronica a te la domanda di chi se lo rifarai la farò fra qualche anno quando avrai finito questo primo mandato però mi rifaccio alle parole che diceva prima Francesca quando le ho chiesto beh in Italia finalmente siamo arrivati ad un premier donna perché ancora oggi facciamo veramente molta fatica a pensare ad un direttore giornale donna e poi non è una questione secondo me a mio giudizio donna uomo importante a mio giudizio che sei capace o non sei capace perché la sinistra che invece ha visto all'interno suo donne importanti parlo della prima del di Nilde Jotti della della presidente Boldrini se spostiamo un po' al centro il primo ministro è stata Tina Anselmi il primo ministro donna è stata Tina Anselmi perché la sinistra non è riuscita a tirare fuori dal cilindro del cappello cilindro una leader forte che potesse portare alla a questa svolta quindi ad una premier a una premier del centro-sinistra donna ci ha pensato come ha detto lei il centro-destra che individuando una donna forte è riuscita a focalizzarci più o meno attorno a lei che autocritica fa invece l'altra parte politica italiana sicuramente è un'occasione persa dovuta sicuramente a dinamiche interne nel senso che poi è all'interno che si decide chi poter in qualche modo promuovere per poter raggiungere determinati ruoli e se all'interno non viene dato questo spazio non viene concesso dobbiamo farci una domanda e questo mi rattrista molto mi rattrista molto perché essere di sinistra delle volte non vuol dire che si è esenti da stereotipi e soprattutto da concetti come la parità di genere in questo caso penso che la problematica sia anche un po' da distribuire a diversi concetti e come diceva anche Francesca a come noi immaginiamo e come si portano avanti all'interno delle proprie liste delle proprie partiti questi concetti e queste dimensioni il fatto che non ci sia stata una donna del centro-sinistra è proprio perché nessuno ha dato spazio tant'è che noi arriviamo comunque ad avere diciamo come portatori o come comunque leader di partiti ancora tantissimi uomini pur di sinistra piuttosto che le donne è solo in questo momento recentemente che abbiamo una leader per quanto riguarda il PD che appunto è l'Ishlein quindi una donna per cui il lavoro che c'è da fare è soprattutto all'interno all'interno proprio di ciascuno perché nessuno è esente all'interno di ciascuno e anche perché di donne capaci ce ne sono il problema è sicuramente che non è stato dato lo spazio e soprattutto che non non si è arrivati a costruire un momento di come dire opposizione forte perché non c'è stata un'opposizione di fatto per cui altre persone sono riuscite a raggiungere quel ruolo che appunto le spetta anche per competenza proprio perché dall'altra parte purtroppo non c'è mai stata una una presa di posizione forte che potesse arrestare qualcosa che era già in movimento però hai detto diventa leader del maggior partito di centro-sinistra Elishlein una donna però il primo problema che ci poniamo è il colore o la fattezza del suo trench non ti sembra un po' troppo reduttivo infatti io mi collego moltissimo alla narrazione che viene fatta in politica soprattutto se si è una donna e il fatto che noi ci soffermiamo su come si veste una persona in questo caso Elishlein è solamente condizione di ciò che ci siamo raccontati fino adesso il fatto che non vogliamo dare spazio quelle che sono le argomentazioni perché Elishlein avrà parlato di tantissime altre cose il fatto che la società si concentri sull'aspetto fisico non è altro che quello che abbiamo detto e quindi il lavoro va fatto non solo all'interno dell'arco proprio di chi racconta gli episodi quindi lo scrittore il giornalista chi appunto ha la capacità di merrare ed avere un impatto ma va fatto anche da chi legge da chi può fare un filtro da quelle che sono le notizie che spesso purtroppo non viene fatto Sì Fabiana Voglio solo aggiungere che se andiamo a rivedere a me è capitato di farlo recentemente per una ricerca come dire gli atti della costituente troviamo anche lì che di fatto voi sapete insomma ricordate che appunto erano solo 21 poche ma buonissime perché insomma dobbiamo ringraziare le madri costituenti per alcuni articoli fondamentali tra cui l'articolo 3 e non solo in realtà su che cosa si concentravano i giornalisti lo dico anche facendo autocritica su come erano vestite come arrivavano vestite e del resto una delle domande che hanno fatto a Tinan Selmi il giorno in cui è stata nominata ministra è stata di chi era di quale stilista era il vestito che indossava e lei giustamente gli ha risposto faccia la stessa domanda a un mio collega uomo quindi questo è anche un po' cioè come dire questo ci dice da una parte che siamo sempre lì e sono passati appunto un sacco d'anni e dall'altra che forse ecco torna fuori sempre quello cioè gli stereotipi su cui abbiamo costruito questa questa narrazione che insomma sono molto difficilmente modificabili Nicoletta la preferenza di genere secondo te è stato il motivo che ha potuto liberare degli spazi alle donne come la vedi tu la scelta della preferenza di genere nelle elezioni amministrative e non? guarda è stata un'arma a doppio taglio nel senso che poi anche da un punto di vista proprio della ricerca si è notato che in realtà da una parte incentiva e magari accendere dei fari su determinate tematiche è importante dall'altro invece poi si incattivisce la popolazione sempre di più verso le donne è strana come cosa ma è una cosa che avviene nel senso che a un certo punto si attacca poi la persona quando non si ha più terreno fertile in cui attaccarla si va ad attaccare la persona e anche questo commento del come siamo vestite ma chi interessa se nel contesto politico è qualcosa di prettamente sessista perché un uomo non viene mai chiesto chi ti veste non vengono mai fatte domande di questo genere quindi diciamo l'aver messo tanto in luce delle problematiche che effettivamente ci sono e che per le donne insomma è importante che se ne parli e si vada avanti per questa strada ha incattivito un po' più gli animi diciamo così e quindi molti attacchi tanto è vero che una delle donne più attaccate in politica è la Boldrini che si è spesa tantissimo per queste tematiche e lei è attaccata su tutti i fronti possibili e immaginabili proprio perché parla molto di genere di diritti delle donne e di tutta una serie di tematiche poi di cornice quindi diciamo che da una parte è importante far luce e valutare gli aspetti e cercare di trovare anche delle soluzioni dall'altra bisogna fare attenzione perché si incattivisce non so per quale motivo una controparte forse un po' più di pensiero non so sessista maschilista che invece attacca e dice ma non ce n'è bisogno restiamo un attimo su quello che hai detto in apertura ovvero il report che avete pubblicato ecco puoi darci ancora uno spaccato su quello che questo report recita assolutamente allora l'obiettivo era quello appunto di vedere in che modo e in che quantità la donna veniva attaccata in politica parto da una piccolissima premessa il report pubblicato con Lucina ha degli esempi che sono stati estrapolati da un report che l'anno scorso invece ho scritto insieme a un gruppo di ricerca della LUIS l'università LUIS di Roma in cui si parlava appunto di disinformazione io mi sono occupata della disinformazione sulle donne in politica e i miei colleghi invece in altri ambiti e poi abbiamo racchiuso tutto in questo report di ricerca che è stato pubblicato e lo trovate sul sito degli affari esteri ovviamente abbiamo seguito un iter ben preciso nel senso che tutti quanti avevamo delle varie fasi e dovevamo attenerci a quelle fasi poi ovviamente cambiava il contenuto perché le tematiche erano diverse però insomma quindi ci sta una certezza scientifica insomma in questo e per quanto riguarda la disinformazione sulle donne ci siamo resi conto che bisognava fare una differenza da una parte c'erano delle vere e proprie narrazioni di disinformazione quindi c'erano proprio delle storie inventate su delle tematiche importanti e dall'altro invece c'erano dei veri e propri attacchi d'odio con un linguaggio anche uno storytelling che io ho definito manipolatorio che diciamo attaccavano la persona solo la persona e per quanto riguardava le narrazioni di disinformazione nel contesto italiano soprattutto si trovano tantissimo quello che è definito la decontestualizzazione di un elemento praticamente si prende un elemento originale in un contesto originale diciamo così e lo si trasporta in un elemento diciamo in un contesto manipolato e quindi una citazione che una delle donne in politica diceva su un determinato argomento anche abbastanza scottante che poteva riguardare i diritti civili i diritti delle donne veniva ricontestualizzato da un'altra parte e la metteva in cattiva luce ovviamente era una notizia falsa perché non era vera e altro elemento che si riscontra è l'utilizzo del linguaggio molto spesso anche testate a carattere nazionale importanti utilizzano un linguaggio tipo sensazionale sensazionalistico che stimola determinate reazioni anzi determinati più che altro non reazioni ma sentimenti e i sentimenti che per la maggiore stimola sono rabbia malcontento generale e paura e una volta che tu vai a stimolare questi sentimenti in un articolo utilizzando questo linguaggio appunto con una costruzione di frase verbi piuttosto che la reazione che hai dall'altra parte da chi legge è una reazione una contrapposizione simile cioè è leggi odio ti stimola odio di conseguenza insomma chi è il soggetto della notizia viene portato poi ad essere tra virgolette preso di mira quindi anche questo è stato un'analisi del linguaggio proprio Francesca credo che ormai stiamo poi in conclusione tu l'hai fatto l'amministratore chiedo anche a te se rifaresti questa questa strada questa professione io non sono molto d'accordo con quello che hai detto tu prima credo che fare l'amministratore sia una cosa e scendere in politica a livelli un po' più alti sia un investimento anche per il proprio portafogli uomo o donna che sia cioè fare il consiglio regionale è molto più remunerativo che fare l'assessore di un comune no? specialmente se è piccolo ecco tu lo rifaresti e come vedi invece come per un uomo o per una donna è uno sbocco professionale la politica o secondo te per qualcuno la politica è diventato un mestiere? infatti se non me la se non me la facevi la domanda mi inserivo dentro proprio a gamba tesa faccio alcune considerazioni poi ti rispondo se lo rifarei oppure no preferenze di genere vado su questo tema che avete affrontato formalmente è un mondo perfetto uno può scegliere un uomo e una donna sostanzialmente non serve a nulla perché se non hai il bagaglio dei voti dietro la squadra dietro il partito dietro che ti supporta puoi avere la preferenza di genere che vuoi ma le tue preferenze rimangono quelle che ti porti dietro da donna e quasi sempre nemmeno le donne votano una donna quindi la risposta è molto semplice infatti i record men di preferenze sono appunto uomini non sono donne soprattutto qui a Verona altra questione parli di professione la politica fare l'amministratore non è una professione è un servizio civile civico come lo vuoi chiamare è un tempo della tua vita che devi dedicare a e assistiamo invece anche nel nostro territorio a delle confusioni da questo punto di vista cioè si scambia effettivamente il ruolo amministrativo il ruolo politico come una professione ci sono persone che sono in consiglio comunale da 10, 15, 20, 30 anni proprio dei record eccezionali e poi se fai la domanda scusa ma che lavoro fai banalmente faccio il politico ma non è un lavoro come fare perché poi io sono sempre molto terra terra e dico prima diceva ci sono degli obblighi sei obbligato a fare questo servizio civile io ci metterei dei divieti non degli obblighi alla fine della fiera finiranno questi uomini cioè fatto uno due mandati si finirà quella benedetta lista e quindi per forza di cose dovranno essere inserite delle donne metterei proprio dei divieti tu oltre i due mandati oltre i tre mandati ma anche come consigliere comunale anche come consigliere di circoscrizione non lo puoi fare lo fai lo fai per quei due mandati lo fai bene poi fai dell'altro perché il tuo lavoro deve essere effettivamente un altro se lo rifarei sì lo rifarei è un'esperienza di vita molto formativa è un elemento valoriale che aggiunge alla tua carriera proprio anche professionale è stato molto positivo perché molti rapporti molte reti vengono coltivate vengono proseguite ci sono addirittura persone che mi vengono a cercare adesso e non mi cercavano prima quindi significa che effettivamente qualcosina nel tuo percorso hai lasciato lo rifarei non più per due volte ecco nella logica di e in questo forse noi donne siamo più brave a dire basta a staccarci a non avere proprio quella malattia di cui parlava Veronica magari ce la teniamo un po' dentro ecco la soffochiamo in questo punto di vista è una cosa la passione ti rimane la puoi sviluppare in altri in altri ambiti politica non vuol dire per forza fare amministrazione o fare politica all'interno di un partito ci sono altre politiche che puoi che puoi fare che puoi svolgere sì non posso dire di non di non pensare che se mi si domani mattina mi si cogliesse l'occasione di tornare indietro e di dire sì no col seno di poi sicuramente sì ma come tutti credo un'ultima domanda per te Fabiana così abbiamo finito il giro e ti chiedo i partiti politici se esistono ancora oggi come oggi sono accoglienti nei confronti delle donne ma io dico sempre una cosa la ripeto è molto banale ma è molto reale che poi riguarda anche tutto questo discorso sulla preferenza di genere sulle quote tanto vituperate ma a mio avviso necessarie eccetera che un posto in più una donna è un posto in meno un uomo questo è cioè quindi di fatto è per questo che non funzionano queste cose per questo non ci sono spazi per le donne e per questo ci sono gli uomini che stanno lì una vita quindi ecco sì sì ma io sono assolutamente favorevole al cioè come dire a mettere uno stop dopo un certo numero di mandati qualche partito si è dato anche delle regole interne poi magari ci sono sempre poi le deroghe che per Tizio o per Caio però questa è la verità no? per cui anche cioè pensiamo per esempio alla regione da cui provengo il Florenenza Giulla che per tre volte di seguito ha bruciato la doppia preferenza di genere in questo momento noi abbiamo il su 47 consiglieri 9 donne ne avevamo nella precedente consigliatura su 49 6 donne ecco questo cioè direi che è abbastanza imbarazzante peraltro lo stesso ministro Calderoli che dello stesso partito del presidente della regione Florenenza Giuglia ha richiamato il presidente Federica in questo senso dico invece che se noi guardiamo la legge del Rio io credo che sia una legge in quel momento necessaria la legge del Rio che è quella che prevede che nei comuni di sopra di 3000 abitanti diciamo nelle giunte quindi nell'esecutivo il genere meno rappresentato che quasi sempre il genere femminile ma appunto io detesto sentire parlare di quote rosa perché in realtà è molto più corretto parlare di quote di genere anche se molto spesso poi riguardano appunto le donne e ha fatto sì che mentre abbiamo 15% di sindache abbiamo in realtà il 44% di assessore perché lì per forza di cose anche i sindaci quelli che dicevano ma io la chiamerei una donna ma non ce ne sono oppure ti dicono ma non sarebbe il caso di anche sì va bene una donna purché sia brava perché le donne devono sempre dimostrare di essere all'altezza mentre per gli uomini è dato per scontato questo è il tema di fondo la legge del Rio obbliga i sindaci e le sindache perché ovviamente anche quando ci sono delle sindache devono a come dire trovarle queste donne perché ci sono dovete solo andare a cercarle e ci sono ma questo vale anche per i direttori dei giornali o per i giornalisti che quando fanno i servizi anche su temi a volte che sono più considerati che poi insomma tra 10.000 virgolette femminili alla fine vai a vedere sono 5 uomini intervistati ma perché le donne certo le donne diciamo hanno altro da fare che essere a disposizione o chiamare in redazione dicendo intervistami però addirittura siamo arrivati a fare i famosi elenchi delle 100 esperte proprio per dire guarda che le donne ci sono sono qui questi sono i loro curricula questo il tema alla fine è sempre quello cioè quindi purtroppo l'occupazione degli spazi e qua dobbiamo davvero ripeto io non ho esperienza ma correggetemi se sbaglio di uomini che in politica abbiano fatto un passo indietro dicendo guarda io mi fermo candidati tu cioè onestamente non ne ho in mente questo è il vero problema è questo bene mi dicono mi dice Ernesto che se c'è qualcuno che vuole fare una domanda alle mie interlocutrici ecco se avete questo piacere potete tranquillamente farlo la mia non è una domanda proprio vera e propria ma è solo un'osservazione complementare a quanto ha detto la ex assessore mi sembra il cognome non me lo so cioè ammetto la bravura della Meloni perché non si può da un punto di vista strategico bravissima adesso vedremo quello che riuscirà a fare però secondo me una parte del suo successo è stato il fallimento della sinistra non è stato solo la sua bravura perché quello che succede a sinistra è stato un frammentarsi un litigio continuo non che a destra non ci siano però probabilmente davanti al pericolo si compattano di più invece la sinistra è capace di fare mille partitini dal 2% dallo 0 virgola e così non vanno da nessuna parte questo secondo me è quello che ha dato un forte aiuto alla Meloni ho parlato di una tempesta perfetta esatto ma infatti io non ho detto che non sono d'accordo ho detto che c'è anche questo aspetto cioè infatti la tempesta è perfetta la sua bravura io mi riferivo la sua bravura nel trovare la breccia perfetta il momento corretto i temi corretti la bravura è stata lì poi è logico adesso la testeremo sul campo esatto sono d'accordo infatti in questo però mi dica se è d'accordo anche sul fatto che la sinistra guardi io sono molto critica non so se mi ha sentito sul mio partito sugli altri ci pensano gli altri cioè ne ho più che sufficienza del mio è vero però si può parlare io ho un'anima di sinistra non la nascondo però effettivamente rimango sbalordito dalla bravura che ha la sinistra nel litigare continuamente c'è proprio una cosa cioè rimango sono maestri in questa roba qua maestri i migliori di tutti volevo fare una domanda a tutte ma anche a Luca secondo voi come si fa ad educare permettetemi il termine una società in qualche modo maschilista verso noi donne ma anche noi stesse donne verso noi donne perché ricordiamoci che noi donne per prime molte volte non facciamo rete tra noi non ci supportiamo anzi facciamo tantissimi scontri tantissime lotte interne proprio perché c'è sempre la cosa di dover dimostrare che siamo l'una più brava dell'altra e quindi appunto volevo chiedervi secondo voi appunto nonostante siamo nel 2023 come facciamo ad educarci noi per primi nei confronti di noi donne chiaro che una risposta non ce l'ho se no non saremo qua a discuterne sicuramente io trovo sempre molto interessante quando mi approccio nei confronti di chi è molto più piccolo i bambini e le bambine sono già avanti quindi l'educazione della scuola sta funzionando per quanto riguarda gli adulti sicuramente da partire dall'informazione io reputo invece che il linguaggio sia molto importante per cui solamente declinare al femminile vuol dire che esiste quel ruolo che quella donna può raggiungere quella posizione ma soprattutto che anche chi non è donna può riconoscere questa posizione ricoperta dalla donna e poi quello che dicevi tu ti do perfettamente ragione sulla solidarietà femminile che purtroppo deve essere rafforzata e lì dipende da noi andare oltre delle volte a quelle che sono come dire il personalismo e mettersi tantissimo in ascolto facendo rete io condivido tutto no condivido tutto la lettera nel senso che non saprei che cosa dire di più anche io penso che bisognerebbe partire un po' dalle scuole e piano piano abituare a questa diciamo a questa realtà e poi sì l'informazione magari dalla sua potrebbe metterci il suo evitando di fare tante cose sbagliate magari anche da un punto di vista pure di scrittura però condivido pienamente quello che è stato detto assolutamente secondo me è una questione di tempo basta avere pazienza sono passati lo ripeto solo 70 anni in 70 anni siamo arrivati qui quindi la res pubblica era gestita da uomini da quanto da 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 tantissimissimo tempo quindi se in 70 anni siamo arrivati così è solo una questione di proseguire per questa per questa strada cioè non poi è come un piano inclinato no presa la pallina poi non la fermi più ormai è stata lanciata quindi andrà avanti non si fermerà quanto tempo non te lo so dire quanto però ripeto nell'economia generale del tempo che noi abbiamo vissuto e della storia che possiamo guardare dietro a 70 anni non sono nulla nulla ma io credo che bisogna partire molto molto presto davvero come dicevano anche le linee del MIUR che peraltro insomma in riferimento a quello che raccontavo prima avevamo provato ad applicare davvero dalla scuola dell'infanzia occorre partire da un'educazione al rispetto e alle pari opportunità ovviamente a misura dell'età e poi fare un come dire un lavoro complessivo che riguardi certamente l'informazione ma anche pensiamo banalmente alla pubblicità guardate che la pubblicità insomma veicola stereotipi incide moltissimo nell'immaginario e ci sono ancora abbiamo fatto anche lì devo dire tanti passi avanti perché è anche aumentata la sensibilità complessiva della cittadinanza della popolazione nel diciamo ribellarsi o nell'indignarsi di fronte a certi modelli che vengono proposti però a volte ci sono insomma delle pubblicità che davvero come dire concentrano in maniera tossica tutti gli stereotipi possibili immaginabili e poi aggiungo anche una cosa c'è un tema di modelli io ora così la sindaca di Assisi che è una delle intervistate mi raccontava che molte bambine che lei incontra ha incontrato recentemente nelle scuole le hanno detto da grande vorrei fare la sindaca come te ecco cioè voglio dire vedere una donna che riveste un ruolo istituzionale in maniera molto semplice senza grandi discorsi fa loro capire che è possibile anche per loro un giorno non necessariamente soltanto fare la mamma perché se voi ci pensate a proposito di come dire di lavoro complessivo dal punto di vista culturale noi abbiamo ancora oggi nel 2023 dei libri di testo scolastici recentissimi in cui le frasi che vengono poste come esempio dicono mentre la mamma cucina il papà legge il giornale ma guardate che sono cose uscite l'altro ieri ecco quindi provate a pensare quanto questo tipo di come dire di narrazione incide poi nei bambini e le bambine quindi credo che i modelli siano fondamentali al tempo stesso dobbiamo essere di più Francesca lo dice nell'intervista che trovate dice siamo ancora troppo poche per fare la differenza il numero ha il suo peso quindi più le donne saranno impegnate o saranno anche ai massimi livelli non soltanto politici anche in altre posizioni in quelle famose posizioni apicali che non riescono mai a raggiungere e più sarà come dire meno difficile riuscire anche a smontare tutti questi pregiudizi che poi ostacolano la loro presenza in politica e non solo io concludo solo dicendo che se sono io con quattro vuol dire che come diceva Francesca la pallina è stata lanciata e quindi rotola e quindi sono in minoranza ed è giusto anche che lo sia e mi dicono che c'è ancora una persona che vuole fare una domanda buonasera un aspetto che mi ha sempre confusa appunto i problemi insomma i temi di interesse di genere banalmente anche il gender pay gap che è la differenza degli stipendi tra uomo e donna oppure la tampon tax e quindi abbassare l'iva degli assorbenti che è un bene essenziale che dovremmo insomma che dovremmo comprare tutte senza spendere troppi troppi soldi appunto sono tutti i temi che riguardano tutte ed è appunto un aspetto che mi ha sempre confusa riguardo proprio la diatriba tra destra e sinistra perché quello che noi vediamo da fuori è che molto spesso la maggior parte delle volte anzi è la sinistra che si adopera per appunto farsi carico dell'attivismo anche di temi insomma di interesse di genere di temi femministi anche perché appunto siccome ci sono anche donne a destra insomma siamo abbastanza da tutte e due le parti noi donne perché non non può esserci una diciamo un attivismo lo chiamo così a reti unificate cioè ma c'è sempre questa tendenza a cioè insomma noi vediamo molto spesso che le queste lotte sono rivendicate dalla sinistra e sono portate avanti dalla sinistra a destra non vediamo molte azioni insomma in questo in questo senso non so se chi vuol rispondere a questa domanda allora ma credo che sia una questione di ideologia non di idea tante volte la politica confonde persegue delle ideologie e non delle idee questo sia a destra che a sinistra l'idea magari è buona ma siccome la propone una parte ideologicamente non la posso sopportare dall'una e anche dall'altra parte poi vi sono livelli di idee e di ideologie ci sono dei temi che non sono né di destra né di sinistra e che in moltissimi casi vengono seguiti e supportati negli obiettivi unanimamente proprio all'unanimità senza nessunissimo problema è un po' la politica io dico non è consiglio pastorale stiamo facendo politica e quindi di conseguenza tantissime volte solo perché l'hai detto tu o perché l'ho detto io non funziona e una volta che è stata stigmatizzata questa ideologia come di destra o di sinistra al di là dell'idea fondante buona o cattiva che ci sia dietro viene ad essere denigrata derisa non perseguita non è consiglio pastorale la politica e Veronica te lo potrà dire tante volte ci sono delle bellissime idee che vengono ideologizzate non so se si possa dire e di conseguenza vengono non perseguite da tutti e la politica fa parte anche questo gioco della politica solo un esempio concreto positivo penso alla legge Golfo Mosca è una legge che compie dieci anni e che prevede che prevedeva e che prevede la presenza del 30% nei consigli di amministrazione per il 30% di donne è una legge assolutamente come dire bipartisan perché appunto Golfo senatrice di Forza Italia Mosca deputata del PD che ad un certo punto dieci anni fa avevano ognuna presentato una legge in questo senso poi hanno deciso di unirsi e sono riuscite a far approvare questa legge che è risultata tra l'altro fondamentale proprio per aumentare la presenza delle donne nei consigli di amministrazione e portare effettivamente una serie di competenze che sarebbero in realtà rimaste fuori quindi è molto faticoso è vero quello che dice però insomma ogni tanto ci si riesce anche grazie posso fare io invece due considerazioni la prima è che comunque la politica rispetto al giornalismo ha tracciato una strada perché noi non abbiamo praticamente direttrici di giornali mentre abbiamo una premier di governo abbiamo una segretaria di partito è comunque un esempio per quanto ci sia ancora moltissimo da fare che però ad esempio per il nostro mondo quello del giornalismo è un esempio importante questa è solo una considerazione perché voglio dire che credo sia giusto anche dire le cose positive di quello che si sta facendo poi volevo fare e chiedo scusa alle altre tre relatrici una domanda particolare a Veronica perché so che è stata di recente negli Stati Uniti ha fatto un'esperienza anche molto particolare volevo capire rispetto a tutto quanto ci siamo detti vi siete dette insieme a Luca qual è la percezione che hai avuto in quelle poche settimane che sei stata negli Stati Uniti quindi presumo molto parziale però rispetto a questi temi di cui abbiamo parlato perché magari c'è qualcosa che ci puoi raccontare rispetto a questa cosa telegrafica purtroppo perché poi dobbiamo iniziare il prossimo panel però ti devo però ti devo un po' sconfessare perché adesso ne parlavamo le direttrici di quotidiani in Italia adesso sono tre ce ne sono sì è vero però anche qua insomma è una fatica è una fatica enorme tre quanti quotidiani abbiamo? credo qualche centinaio sì però insomma certo che su una linea con le percentuali ci stiamo muovendo anche qui però effettivamente è un mondo che deve volare siamo credo molto lontani nella pubblica amministrazione forse è diverso perché ci sono dei vertici che invece sono penso la polizia locale io abito a Ronchi dei regionali c'è una comandante che è una donna ormai da da molto tempo scusa Veronica sarò molto telegrafica nel senso che anche lì come qui ci siamo interrogate tantissimo grazie al fatto che appunto ho partecipato a questa esperienza negli Stati Uniti e ho potuto anche interfacciarmi con persone che stanno studiando e analizzando anche lì i dati sconfortante la situazione anche lì soprattutto dal punto di vista di donne politica e quindi insomma da questo punto di vista possiamo dirci un po' sollevati ecco che neanche ad oltreaceano hanno delle risposte ai nostri quesiti grazie io vi ringrazio ringrazio le mie ospiti le mie interlocutrici ringrazio ancora il festival del giornalismo di Verona per averci voluti al loro fianco e il festival del giornalismo di Verona sarà a Ronchia nel prossimo mese di giugno e spero che questa nostra collaborazione continui e vi ringrazio ancora di cuore grazie anche a voi te lo posso già confermare Luca perché ci stiamo trovando molto bene per ringraziarvi del vostro tempo e delle vostre esperienze che ci avete condiviso alcuni omaggi da parte dei nostri sponsor farete qualche bevuta diciamo di bianco e di rosso grazie alla cantina di Monteforte e a Bosco dei Cerri insieme pensando al festival del giornalismo a questa giornata grazie di un cuore a tutti voi e grazie anche a voi che avete partecipato a questo panel grazie a tutti grazie a tutti a tutti